Intervista post-gara, il più ridibile è il pilogo di una bellissima gara, 7-6, la gol del team porta a casa la vittoria. Mario D'Amico, una partita di offerta, l'inizio degli avvocati positivi, poi la vostra risposta a lungo e il risultato degli avvocati. Come è stato questo esordio? È stato un bel esordio, è da vedere che comunque la squadra è il primo anno che c'è anche per la Camus, ha fissato due innesti, tra cui il tiro finale e l'inizio di Roma, quindi è una squadra da provare. Siamo ancora in fase di calcolazione e come sempre l'inizio degli avvocati è una partita difficile, sempre all'ultimo respiro. Mi sono portato a casa dei punti portati. A me stesso, perché ogni volta non riesco a fare gol, lo fa, lo traversa, stavolta è andata bene, un gol l'ho fatto. Però voglio dedicare questa vittoria non solo ai ragazzi che non hanno giocato adesso, ma a quelli che sono rimasti a casa, perché noi siamo un gruppo di 18 elementi, ci ruotiamo per giocare, è difficile gestire un gruppo così grande, quindi un applauso anche a loro che stanno a casa, la vittoria è anche dedicata a loro. Il momento è che gli avvocati hanno fatto questa grande cardenza a campi. Ma quando giochiamo contro l'avvocato Bisogna, dà sempre grinta energia alla sua squadra, quindi giocano sempre contento e avvelenato, fino all'ultimo respiro. Vorrei fare anche un complimento al nostro baby Gennaro D'Amico, il nostro distensore più giovane della Ligia. Grazie. Ciao e grazie, alla prossima.